Comincia a prendere forma l'assetto didattico universitario dell'anno accademico 2023-2024. Il Consorzio Universitario degli Studi di Palermo ha pubblicato tre bandi pubblici per l'anno accademico 2023-2024 per il corso di medicina e chirurgia, ingegneria biomedica e scienze e tecnologie biologiche. Per quanto riguarda il bando inerente al corso di medicina e chirurgia, i posti disponibili per i cittadini dell'Unione Europea di cui parati sono 320 per la sede di Palermo e 97 per la sede di Caltanissetta, mentre sono tre i posti riservati ai cittadini non dell'Unione Europea o residenti all'estero per la sede Nissena. Per medicina e chirurgia, l'indirizzo tecnologico, odontoiatria e protesi dentaria, rispettivamente 68 e 25 posti per la sede di Palermo ai cittadini europei ed equiparati, 2 e 1 posti sempre nel capologo siciliano per i cittadini non europei o residenti all'estero. Per quanto concerne il bando ingegneria biomedica per il prossimo anno accademico 2023-2024, i posti nella sede di Caltanissetta per il corso equivalente sono 100 per i candidati dei paesi dell'Unione Europea, 5 per i cittadini di paesi non dell'Unione Europea o residenti all'estero e 2 destinati ai candidati cinesi, mentre per la sede di Palermo in totale sono 187 posti. Infine, il bando Scienze e Tecnologie Biologiche per il corso equivalente prevede per la sede Nissena 106 posti di cui 100 disponibili per i cittadini dei paesi dell'Unione Europea, 5 destinati ai cittadini dei paesi non europei o residenti all'estero e 1 ai candidati di cittadinanza cinese. 106 posti di cittadinanza cinese. Grazie a tutti